Ciao ragazzi, prima di iniziare col video vi faccio un piccolo minuto in un sponsor dove se volete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente contagiosi ci sono gli amici di Eneba e potete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente bassi oppure se volete delle gift card potete andare sul sito, sul loro sito di Eneba, degli amici di Eneba vi lascio il link qui sotto e pure in descrizione e niente, vi lascio al video, ciao ragazzi ed ecco qui ragazzi che ho inserito anche il perno di metallo, eccolo qua se vi vedete benissimo, ecco qua e così ragazzi è come si presenta il timone di dietro del Titanic eccolo qui ragazzi, bellissimo ora un dettaglio in più nello scafo del Titanic bellissimo adesso ragazzi non c'è questo fra l'altro che andare a prendere questa qui e la dobbiamo andare a mettere in questi due fuori uno è quello più piccolo qui adesso vado a fare questo posizionamento ragazzi e ci vediamo non appena ho finito ed eccola qua ragazzi che sono andato a fissarla alla prua del Titanic nuovi dettagli si aggiungono alla prua adesso ragazzi dall'uscita nuova dobbiamo andare a recuperare i 6 bit, queste qua e poi in più anche le viti per fissare la prua quindi adesso andiamo a mettere le nuove sezioni sulla prua e ci vediamo tra poco ed ecco qua ragazzi che si sono andate a mettere tutti quanti i nuovi dettagli presi dall'uscita numero 9 come potete vedere adesso vado a continuare un po' con il numero e ci vediamo tra poco adesso dobbiamo andare a prendere le aste le due aste che sono una e due 133C 135C e 135C e le dobbiamo andare a posizionare praticamente qui una e due ragazzi andiamo a fare questa operazione e ci vediamo tra poco ciao ragazzi se volete comprare il mio merchandising vi lascio il sito qui sotto in descrizione ci sono le felpe come questa che indosso io con il mio logo qui oppure oltre alle felpe ci sono le t-shirts in vari colori ragazzi e niente detto questo qui sotto in descrizione troverete il link sul loro sito le ho ordinato e vi arrivo a casa e niente ciao a tutti belli ciao a tutti